Comincia ufficialmente l'ultima settimana di campagna elettorale a Melfi che il 6 giugno 2016 potrebbe leggere il nuovo sindaco per la prossima legislatura. Il condizionale è d'obbligo dal momento che il ballottaggio tra i due candidati più votati resta ipotesi assai concreta. A poche ore dall'apertura delle urne dunque spazio ai candidati. In questo caso 4 e non 5. Intervistare il candidato del Movimento 5 Stelle era e resta un'impresa. Impresa alla quale rinunciamo dopo diversi solleciti già inoltrati ai diretti interessati. Allora spazio all'ultimo appello di Aquilecchia, dei Fratelli d'Italia, Damato di Noi Consalvini, Navazio delle liste civiche di centrodestra e Livio Valvano candidato sindaco del centrosinistra. Noi siamo il vero cambiamento, non siamo quello falso. In vent'anni la città di Melfi ha sofferto tantissimo tra le due amministrazioni, quindi parlo di Navazio e di Valvano. Noi daremo un vero senso a quello che diciamo e trasformeremo questa città, iniziando dal lavoro, dalle infrastrutture e dal decoro urbano. Prima di tutto noi non ci nascondiamo dietro le liste civiche. Secondo motivo perché dobbiamo fermare il deglino di questa città. Terzo motivo perché noi siamo gente che lavora, non siamo politicanti di mestiere, pertanto noi siamo gente come voi. Per questo motivo potete fidarvi di noi. Questa città deve ripartire e deve risentire un orgoglio per poter mettere da parte questi anni bui, perché in questo passato recente l'amministrazione comunale è stata rinunciatario, riprendere l'orgoglio, una Melfi semplice, una Melfi progettuale, guardare il futuro, solo così possiamo crescere. Nel momento più difficile della storia del Paese, dell'Italia, in difficoltà finanziaria, questa maggioranza, il governo del centrosinistra, che si è allargato ulteriormente, ha provato a mandare avanti con grande difficoltà e a seminare i semi dello sviluppo, dello sviluppo per una città molto complessa che ha bisogno di credere in se stessa e di essere la porta della Basilicata, al centro delle strategie di sviluppo della Basilicata. Questa è la ragione principale per cui sostenerci, per sostenere Melfi e perché Melfi possa fare il passo in avanti che noi abbiamo programmato.